Leo Castiglione, è ballottaggio con Giorgio Marcheggiano, due persone, due volti della città che hanno detto no ai partiti, li hanno sfidati e si sono presentati all'elettorato. Certo, è la lettura esatta di questo voto, più che noi è la città che ha detto no ai partiti. Questa città veniva da 5 anni di non amministrazione del centro-sinistra ma anche di non opposizione da parte del centro-destra e il cittadino ormai ha capito e noi abbiamo semplicemente rimesso al centro della vita amministrativa il cittadino che deve essere consapevole, deve essere parte integrante nella gestione di una comunità. Tutto qua, è un programma molto semplice, quello mio, quello nostro, cominciato già da un anno fa quando io uscì in consiglio comunale dalla coalizione di cui facevo parte, ho iniziato un nuovo progetto civico ma vero, non di un'appartenenza ma che vede all'interno di questo progetto persone di area di centro-sinistra o di centro-destra, persone che hanno messo al centro il bene della città. E quindi questo è quello che sarà il nostro programma. Prossime due settimane di campagna elettorale in vista del ballottaggio di domenica 25 giugno, apparentamenti? Assolutamente no, perché la cittadinanza ha apprezzato il percorso che abbiamo iniziato, ha apprezzato il programma che abbiamo redatto con la loro collaborazione, con la loro condivisione e io non tradirò la fiducia dei cittadini che è stata testimoniata con questo largo consenso dato al primo turno. Pochissimi punti percentuali vi separano per quanto riguarda appunto il risultato del primo turno, come riuscire a conquistare gli indecisi o coloro che hanno votato altri candidati che poi non sono arrivati al ballottaggio? Certamente 290 candidati consiglieri, 7 candidati sindaci hanno creato un po' di disorientamento nella cittadinanza, purtroppo è sempre così. Io credo che il secondo turno vedrà un voto più deciso, un voto in cui credo che il cittadino ortonese dovrà decidere tra due squadre, una squadra fatta di giovani ma non solo, che predica il rinnovamento ma all'interno delle liste vede molti ex amministratori nascosti all'interno delle liste, e invece dall'altra parte una squadra che ha progettato il rinnovamento e l'ha praticato con tre liste civiche composte da 48 persone che tranne il dottor Vincenzo Polidori che ha avuto un'esperienza amministrativa sono tutte persone senza mai aver avuto un incarico amministrativo. Quindi rinnovamento fatto di idee, fatto di progettazione ma soprattutto fatto di persone. Se dovesse essere eletto sindaco il 25 giugno è il primo problema da affrontare per Ortona? Il decoro della città, la revoca della delibera del GPL, la salvezza del pronto soccorso dell'ospedale.